Il comune di Castellana Grotte ha deciso di svolgere e utilizzare questo social in maniera opportuna. E lo vedo già dietro di me, l'assessore, benvenuto, Vanni Sansonetti con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, assessore, io stavo spiegando brevemente questa iniziativa. Io che seguo la scia di Io resto a casa, lanciata dal Mibact, voi lo fate offrendo il teatro a casa nel vero senso della parola. Di cosa si tratta questa iniziativa? Beh, diciamo che un giorno pensando nello stare a casa, appunto come tanti cittadini, è come poter offrire l'opportunità ai tanti castellanesi, ma anche altri, di utilizzare questo tempo anche per la cultura. E quindi le numerose associazioni teatrali presenti a Castellana Grotte, ho chiesto loro la disponibilità e sostanzialmente abbiamo caricato sul canale YouTube del comune di Castellana Grotte degli spettacoli teatrali delle locali associazioni. Abbiamo creato quindi una sorta di database, e quindi la cultura che arriva a casa ai tempi del coronavirus, restando appunto tutti a casa. Per questo devo ringraziare veramente di cuore le associazioni di Castellana, la filodrammatica del Circolo Pivò, il gruppo teatrale Amici Nostri, la compagnia teatrale Teatro 2, Groca, la filodrammatica Ciccio Clori, che hanno messo a disposizione i loro spettacoli più importanti, proprio per la collettività, per cui tutti quanti possiamo gustare delle serate come se fossimo a teatro. Ecco, come avviene la comunicazione? Cioè il vostro cartellone online viene aggiornato, io vedo più o meno ogni giorno, poi ai vostri cittadini come divulgate la presenza di un nuovo video? Beh, abbiamo fatto una sorta di recall attraverso la pagina Facebook del comune, proprio ieri, inserendo l'elenco di tutti quelli che al momento sono i titoli inseriti in questa playlist sul canale YouTube. E anche con discreto successo, direi insomma, ci sono dei titoli che hanno superato le 500 visualizzazioni. Al momento ne sono caricate una decina. La cosa molto bella è che si riprendono anche vecchie rappresentazioni teatrali, anche di vent'anni fa, in vernacolo anche castellanese, per cui è un bel momento di aggregazione anche per la città, che si ritrova unita nel nome del teatro. Ecco, noi stiamo mostrando ai nostri telespettatori la vostra pagina, vabbè, prima tra tutti Natale in casa Cuppiello mi esce come video postato e tra l'altro anche fra quelli più seguiti, quindi come diceva lei dai più classici spettacoli e più moderni. Certamente, e invito ancora le associazioni a dare la propria disponibilità, insomma, è un modo per restare a casa, questo va sottolineato, è poter occupare questo tempo che ci vede ognuno in famiglia per vedere appunto spettacoli teatrali. Allora, assessore, ci fermiamo un attimo, lei resta con noi e noi ci vediamo tra pochissimo. E mai come in questo periodo stiamo riscoprendo l'utilità dei social, i social che si declinano anche alla cultura e uno dei tanti esempi è quello che giunge da Castellana Grotte. Dietro di me è ancora l'assessore alla cultura Vanni Sanzonetti, stavamo parlando prima del break pubblicitario di questa iniziativa che il Comune ha messo in campo per tutti i cittadini. Assessore, io vorrei chiederle come state vivendo voi lì a Castellana Grotte questa emergenza e anche, perché lo stiamo chiedendo a tutti i sindaci, assessori che stiamo raggiungendo in questi giorni, i cittadini se sono dei bravi cittadini. Beh, devo dire che immagino come tutta Italia, insomma con grande apprezzione, però c'è una buona consapevolezza nella cittadinanza delle misure restrittive, quindi che vanno nel senso di preservare noi stessi cittadini e quindi tutto sommato non stiamo ricevendo numerose indisciplinatezze da parte della cittadinanza. I controlli ci sono, sono serrati da parte delle forze dell'ordine, Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e certo qualche sanzione è stata elevata, il controllo è costante, però, ripeto, la si vive con apprezzione, ma anche con diligenza. Ecco, perché nel vostro comune sono comunque tre i positivi, però... Sì, con ieri tre casi positivi. Però tra le iniziative di cui stavamo parlando prima, voi, amministrazione, voi da palazzo di città, spingete insomma i cittadini a rimanere a casa. Ci saranno altre iniziative che voi pubblicizzerete nei prossimi giorni? Beh, il canale Facebook del comune di Castellana Grotta quotidianamente invia messaggi alla cittadinanza secondo quelle che sono le ultime novità e disposizioni, con un bollettino ufficiale alle 20 di ogni sera dove si fa il punto della situazione di quelle che sono, che è stata la giornata e che sono le iniziative in campo. Ultima in ordine di tempo, è appena apparso appunto sulla nostra pagina Facebook, è quella di stilare un elenco delle attività produttive, quindi di coloro che offrono il servizio di delivery, di consegna a domicilio dei pasti e della... insomma, per aiutare tutti a non uscire di casa e a farsi consegnare la spesa a casa. Ma l'iniziativa del COC, che approfitto anche per ringraziare insomma la grande attività che il COC sta svolgendo anche per quelle persone che non possono uscire di casa anziani e per cui si offre il servizio della spesa e quelle che sono le esigenze primarie e fondamentali delle famiglie. Ecco, mi piace parlare con voi che vivete sul territorio perché, Assessore, stiamo raccogliendo tante belle storie di tanti volontari che stanno svolgendo un ruolo unico e indispensabile in questo momento di emergenza. Come diceva lei, ci sono tante associazioni che in questo momento stanno dando più che mai la loro disponibilità e offrendo le loro forze per sostenere, insomma, soprattutto le fasce più fragili delle varie città. In chiusura, e poi la lascio andare, Assessore, anche con lei cerchiamo di mandare un messaggio positivo. Ne usciremo, speriamo, ben presto. Dobbiamo utilizzare tutti la diligenza del caso essere, come dire, fiduciosi nel nostro domani restiamo a casa e seguiamo quelle che sono i dettami e ne usciremo. Ne usciremo cambiati sicuramente, ma ne usciremo. Grazie, grazie Assessore per essere stato con noi torneremo sicuramente a collegarci per altri aggiornamenti grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie. Grazie.